Christine Nielsen lascerà la sua posizione e vorrei ringraziarla per il suo servizio. Con un semplice tweet, Donald Trump ha licenziato il ministro dell'Interno e sempre con un cinguettio ha annunciato il suo sostituto, Kevin McAleenan, l'attuale commissario per la difesa delle dogane e del confine, che diventa il nuovo segretario del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale. Una decisione che non ha sorpreso gli Stati Uniti, dove è nota la frustrazione di Trump per l'aumento dei migranti al confine meridionale. Nelle ultime ore è cresciuta la pressione di migranti anche cubani e afghani che cercano di raggiungere gli Stati Uniti attraversando il fiume al confine tra Guatemala e Messico. In Afghanistan per me è molto, molto pericoloso, dice quest'uomo, mi potrebbero uccidere. Sì, l'obiettivo è arrivare negli Stati Uniti, aggiunge questo profugo cubano, perché a Cuba dice il salario minimo di un lavoratore è di 10 dollari al mese, un cartone di uova costa 5 dollari, come paghi l'elettricità, l'acqua, le scarpe. Trump ha ripetutamente minacciato di chiudere il confine con il Messico se quest'ultimo non fermerà i flussi migratori. Il Messico nega di volerlo fare, ma sembra aver frenato la concessione dei visti umanitari. Un immigrato cubano si è legato ad una croce in segno di protesta per aver dovuto attendere 20 giorni per avere il permesso di rimanere in Messico.